Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale e oggi, come potete leggere qui sotto, vi porto la recensione della saga di Shatter Me. La saga di Shatter Me è la saga di Tyre Mafi, composta appunto da Shatter Me, dalle due novelle che formano il libro Unite Me, che sono Destroy Me e Fracture Me, dal secondo libro che è Unravel Me e dal terzo libro che è Ignite Me. In italiano sono stati tradotti solo i primi due libri, ovvero Shatter Me e Unravel Me, e sarà sicuramente tradotto anche Ignite Me, non so quando, dalla Rizzoli, ma comunque penso sicuramente entro il 2017 che avremo la saga completa e spero vivamente che tradurranno anche le novelle, perché secondo me sono molto, 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 molto importanti da leggere e sono contentissima che abbiano rilasciato, cioè abbiano lasciato le cover in originale, quindi lasciando appunto queste meravigliose copertine che a me fanno impazzire. Io ho letto la saga in inglese, ma vi posso assicurare che è un inglese semplicissimo, quindi per chi di voi vuole iniziare a leggere in inglese può tranquillamente iniziare la saga di Shatter Me. Questi libri sono in copertina flessibile dell'edizione HarperCollins e su Amazon stanno a circa 8 euro ciascuno, poco più poco meno, e sono bellissimi, mi piacciono da impazzire queste edizioni. Quindi, appunto, un inglese molto, molto semplice, quindi se volete iniziare, Shatter Me è perfetto. Di cosa parla Shatter Me? Innanzitutto vi dico che Shatter Me è un distopico, ma non dovete vederlo come un distopico e non pensate ad esempio ai distopici come Hunger Games o Legend o Regina Rossa, perché in questi distopici viene spiegato molto bene quello che è il governo, quella che è la situazione del mondo, mentre in Shatter Me, vivendo noi attraverso gli occhi di Juliet, perché Juliet è il nostro protagonista e il suo punto di vista è quello che viene narrato nel libro, quindi si tratta appunto del punto di vista di Juliet, non viene spiegato benissimo quello che è appunto il governo, ciò che sta accadendo. Cioè, sì, una situazione catastrofica, lo si capisce fin dall'inizio, ma non viene spiegato bene nei minimi dettagli, perché appunto Juliet già sa e perché dovrebbe dirci altro. Quindi viene spiegato, ma comunque i minimi termini. E soprattutto io ritengo che questa saga, o questa trilogia, comunque non sia una vera e propria saga distopica, ma che faccia vedere più che altro quella che è la nostra protagonista e quella che è la sua crescita. Comunque, la nostra protagonista è appunto Juliet, che si trova in isolamento, in un edificio in isolamento, perché lei ha il potere, brutto potere, qualche pensa lei, di far stare male, addirittura far morire, chi la tocca, quindi il tocco mortale. Questo per lei è terribile, ha vissuto delle esperienze bruttissime, è arrivata a far stare male qualcuno, i suoi genitori l'hanno sempre trattata malissimo, l'hanno sempre fatta sentire un mostro, l'hanno sempre fatta sentire come qualcosa di inadatto, qualcosa che non volevano, tant'è che hanno deciso di rinchiudere in isolamento. Si trova appunto in isolamento da tantissimo tempo, e noi fin dall'inizio sappiamo che appunto lei è in una situazione terribile, 264 giorni in cui è chiusa. Inoltre vediamo che ci sono tantissime frasi che vengono sbarrate, sono gli stessi pensieri di Juliet, che lei non riesce in realtà ad affrontare, sono cose che lei pensa, ma che cancella subito dalla sua mente, chi di noi non prova questa cosa, cioè pensiamo una cosa, ma in realtà no, vogliamo semplicemente cancellarla dalla nostra mente, ed è molto pieno di queste frasi, shatter me, e qualcosa che vedremo anche in unravel me, è che in in night me c'è praticamente pochissimo. Vediamo che quindi Juliet è rinchiusa in isolamento, ha degli orari in cui le mandano da mangiare, in cui la fanno uscire per andare a farsi la doccia, andare in bagno e tutto il resto, ma per il resto in isolamento e ha semplicemente un blocchetto in cui scrive ciò che pensa, spesso cose brutte che le sono capitate, o che comunque pensa che le capitano, e cose che sono capitate nella sua vita prima. Lei ha solo 17 anni, ma ha già vissuto esperienze terribili proprio per il suo potere del tocco mortale, fin quando nella sua cella non arriva un ragazzo, che viene rinchiuso con lei, e che dal primo momento sembra un po' cattivello nei suoi confronti, e come è giusto che sia, alla fine non si conoscono, so che sei pericolosa, ma non so che cavolo fai, quindi mi comporto non in maniera gentilissima, sebbene poi fra i due, Juliet e Adam, Adam, lui si chiama Adam, nasca comunque una piccola amicizia, è un qualcosa in più. Perché Adam è importante? Perché Juliet riesce a toccarlo senza che lui abbia alcuna conseguenza, senza che lui provi dolore, senza che lui muoia, senza nulla. Quindi per Juliet è bellissima questa cosa, perché può finalmente avere un rapporto vero, umano, con qualcuno. Poi ragazzi, parliamoci chiaro, 17 anni, ormoni in piena fase di finalmente ho un ragazzo che posso toccare, è ovvio che in parte io me ne innamori, dico così perché molti hanno criticato questo aspetto di shatter me. Credo che non ci sia nessun 17enne che non abbia provato queste cose, nel momento in cui tu non puoi toccare nessuno, è terribile, nel momento in cui puoi toccare finalmente qualcuno, è ovvio che in te anche dagli stessi ormoni si scateni qualcosa. Tutto questo isolamento, tutto questo edificio è governato invece, comunque controllato da Warner, che è il capo invece di tutto questo, del figlio del signore che governa, diciamo, uno dei tanti che sono ormai al governo in questo mondo distopico in cui ci troviamo, che in inglese è the restablishment, quindi penso sia il ristabilimento, una cosa del genere, che hanno appunto nelle mani il popolo, malamente, ovviamente. Quindi, Warner tratta malissimo Juliet fin dall'inizio, la vede anche lui, pare come un mostro, ma vuole anche utilizzarla, cioè lui la fa uscire dalla cella di isolamento, ed è lì che scopriamo anche che Adam non era un ragazzo in isolamento come lei, ma un soldato che lavorava per Warner e che doveva in qualche modo vedere come Juliet si approcciasse agli uomini dopo un tot tempo in isolamento, Warner quindi fa una proposta a Juliet, cioè la vuole usare, vuole usare il suo potere per i suoi fini, quindi a pro del restabiliamento, contro invece magari il popolo, la plebe, che non, diciamo, che si ribella in qualche modo, e Juliet ovviamente pensa fin da subito che Warner sia uno stronzetto e che non vuole assolutamente collaborare con lui. Viene però messa in una camera finalmente con tutto quello che serve per la vita di tutti i giorni, Warner alla fine pur trattandola come un mostro pur facendo di tutto in modo tale che lei scateni i suoi poteri comunque le dà tutto quello che ha di cui ha bisogno e le affida anche Adam, diciamo, come soldato personale tant'è che vivono praticamente quasi insieme ed è lì che Juliet si rende conto che Adam in realtà non è come Warner ma che vuole aiutarla e vuole aiutarla a scappare. Fra i due ovviamente nascerà qualcosa e come io ho detto per Juliet è bellissimo il sapere di poter toccare qualcuno mentre i due stanno anche scappando però c'è una novità ed è l'ultima cosa che vi dico per non farvi altri spoiler Warner riesce a toccare Juliet senza che ci sia alcuna conseguenza neanche per lui quindi adesso sono due le persone che possono toccare Juliet e Juliet ha un attimo di confusione perché pensa allora oltre ad Adam c'è anche Warner che può toccarmi e soprattutto pensa all'inizio spero che Warner non se ne sia accorto perché appunto all'inizio Warner viene visto come il cattivo della situazione ma in realtà è molto 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 altro in Shattermy quindi più o meno è narrato questo anche la fuga di Juliet e Adam il scoprire qualcosa un po' di più su Adam e sul mondo sul governo distopico in cui ci troviamo in particolare coloro che si ribellano a questo governo distopico e veniamo a scoprire che non è solo Juliet l'unica che ha dei poteri mettiamola così c'è un'organizzazione vera e propria di ribelli che in parte sono come Juliet e il libro più o meno narra questo ovviamente non vi voglio dire altro dopo Shattermy bisogna assolutamente leggere la prima novella Destroy Me che narra le vicende dal punto di vista di Warner dal momento in cui finisce Shattermy fino più o meno all'inizio di Unravelmi e ci aiuta tantissimo a capire il personaggio di Warner che non è assolutamente come sembra ma anzi penso sia uno dei personaggi migliori di cui abbia mai letto fino ad ora una bellissima caratterizzazione una bellissima storia un bellissimo sviluppo del personaggio che mi hanno fatto innamorare di Warner dopodiché abbiamo il mio libro preferito di tutta la saga ovvero Unravelmi il secondo libro anche quello più lungo che narra davvero tantissimi avvenimenti qui dentro succede di tutto tantissimi colpi di scena tantissimi plot twist tantissimi avvenimenti che riguardano la vita di Juliet dei ribelli di Adam di Warner e qui io ho amato tantissimo Warner davvero davvero molto non ho non ho non ho non ho amato Adam però ho cominciato a preferire Warner ad Adam perché vediamo che appunto tutti e due possono toccare Juliet ma qui e soprattutto anche nel terzo cominciamo a capire il diverso significato del loro anche in questo caso potere perché anche loro hanno dei poteri nel momento in cui possono toccare Juliet però in un modo può toccarla Adam in un altro modo può toccarla Warner e sono davvero diversi e sono wow sono eccezionali davvero io facciamo una statua Taire Mafi per questa genialità perché è davvero geniale quindi qui accade davvero di tutto e finisce con un wow con un cliffhanger incredibile meno male che io avevo già gli altri libri dopo però Unravelmi bisogna leggere l'altra novella Fracture Fracture di Unite Me che è invece dal punto di vista di Adam che narra appunto le vicende nel momento in cui finisce Unravelmi fino all'inizio di Unite Me Unite Me che è appunto il terzo ultimo libro di questa saga con la copertina più bella del mondo un po' più corto di Unravelmi dove di per sé non accade molto di per sé non accade granché di avvenimenti sebbene ci siano un paio di colpi di scena come giusto che sia soprattutto verso la fine c'è la vera e propria azione ma è bellissimo è bellissimo perché qui c'è il vero Warner qui c'è la vera Juliet Warner e Juliet hanno avuto in particolare Juliet un percorso bellissimo di caratterizzazione di sviluppo del personaggio di capire tutto quello che c'era da capire in questi tre libri e qui sono finalmente loro stessi sono bellissimi e io li amo e sono tanto tanto fiera soprattutto di Juliet perché lei riesce a capire il suo potere riesce a capire se stessa riesce a capire che deve farcela da sola riesce a capire che non deve piangersi addosso tant'è che qui non abbiamo quasi per nulla le frasi sottolineate lei dice tutto quello che pensa non ha paura di sé non ha paura di nessuno va avanti per la sua strada e finisce in un modo che mi è piaciuto molto questo libro ho odiato in questo libro in parte Adam in parte lo capivo però ho amato in particolare Warner e Juliet e soprattutto sono fiera appunto del percorso che ha fatto Juliet in questi libri perché davvero inizia a insciattermi come un esserino fragile indifeso che non riesce a capire il suo potere che si sente imperfetta che si sente un mostro ma riesce a capire che non è così e che soprattutto non deve contare su nessuno ma solo sulle sue forze che non deve piangersi addosso e deve alzare il sedere e farla vedere a tutti insomma deve combattere da sola quindi io l'ho amata tantissimo e ho amato anche Warner tantissimo soprattutto alcune battute di Warner io le incornicerei troppo quindi io vi consiglio tantissimo questa saga ora so che ci sono tantissime polemiche a riguardo ma ripeto che non dovete fermarvi al primo libro perché nel primo libro Juliet potrebbe anche essere un qualcosa che un qualcuno che voi potete odiare ma credo che bisogna capirla assolutamente bisogna capire che è stato in isolamento bisogna capire che lei si sente un mostro perché tutti le hanno detto che è un mostro bisogna capire che lei pensa di essere in isolamento proprio perché pensano che sia un mostro è ovvio il percorso che fa soprattutto nel primo libro ed è bellissimo invece il percorso personale che fa nel secondo e nel terzo libro questa saga ci mostra come un personaggio abbia imparato ad affrontare le sue paure e ci mostra quindi come affrontare le nostre paure come imparare ad amarci come imparare ad accettarci come imparare a non frignare ma alzarsi e combattere ci mostra dei personaggi spettacolari e credo che appunto non bisogna fermarsi solo alla distopia ma bisogna guardare proprio i personaggi in questi libri perché sono eccezionali con Juliet noi cresciamo cresciamo insieme a lei cominciamo a capire come siamo fatti cominciamo a capire il nostro potere cominciamo a capire cos'è la vera amicizia cos'è il vero amore cos'è vivere davvero senza sentirsi un mostro vi prego vi prego di dare una possibilità a questa trilogia di amare Juliet di capirla e di amare Warner tanto quanto l'ho amato io perché anche Warner è uno dei personaggi più belli del mondo ve l'ho già detto ma lo ripeto spero che possiate amare questa saga spero che possiate amare i personaggi tanto quanto li ho amati io spero che non vi fermiate alle opinioni degli altri ve l'ho sempre detto fatevi la vostra opinione leggete Shatter Me andate avanti con Arravel Me e vedete che non è assolutamente una trilogia o una saga brutta ma anzi è spettacolare quindi più o meno è questo tutto quello che volevo dire io non ho che parole positivissime per questa saga trilogia l'ho letta super velocemente perché appunto l'inglese è molto semplice mi sembrava di leggere in italiano ci sono i primi due libri in italiano quindi comunque potete iniziarla e spero davvero che lo facciate perché non merita tutte le critiche negative che io ho sentito fino ad oggi e che purtroppo continuerò a sentire perché è troppo bella io credo che non ci sia così tanto da criticare anzi spero che la recensione vi sia piaciuta fatemi sapere se avete letto questi libri se li volete leggere e tutto il resto vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale ci sono tutti i miei social e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao